Una prima volta assoluta, un neurostimulatore midollare è stato impiantato a una paziente che aveva subito una grave lesione spinale che le impediva di camminare da 5 anni. Ora la donna potrà tornare invece a muoversi. L'intervento è stato effettuato a Milano all'ospedale San Raffaele, ma la notizia riguarda da vicino la nostra provincia, il comprensorio Agliopò, perché a capo dell'equip c'è il casalasco di Scandolara Lavara, dottor Pietro Mortini, primario di neurochirurgia e ordinaria all'Università Vita Salute San Raffaele. Come si legge sul sito del San Raffaele, la giovane di 32 anni è stata vittima di un incidente sportivo che le ha causato una lesione midollare, ora invece è in grado di mantenere la stazione retta e di camminare con l'ausilio di un deambulatore. Il risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con un gruppo di ingegneri dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, diretto dal professor Silvestro Micera, esperto di fama internazionale. La paziente sta ancora eseguendo, con ottimi risultati, un complesso percorso riabilitativo definito dal dottor Sandro Iannacone, primario dell'Unità di Riabilitazione di Disturbi Neurologici Cognitivi e Motori. Il prossimo passo, ha spiegato il professor Mortini, sarà trattare anche lesioni del midollo spinale determinate da malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla nei pazienti che verranno reclutati dall'Unità di Neurologia dell'Ospedale San Raffaele diretta dal professor Massimo Filippi. L'impianto del dispositivo è avvenuto in circa tre ore attraverso un delicato intervento neurochirurgico mini-invasivo eseguito in monitoraggio neurofisiologico continuo. Il pacemaker impiantato, che rilascia impulsi ai nervi e al sistema nervoso, è stato poi programmato per garantire l'attivazione coordinata di tutti i muscoli necessari alla deambulazione. Il controllo delle funzioni dello stimolatore è possibile grazie a una serie di opzioni funzionali che possono essere scelte dalla paziente in base alle necessità locomotorie della sua vita quotidiana.